Sei un genitore dinamico e ami l'avventura? Il nuovissimo Bugaboo Baffalo è per te! L'ultimo nato della famiglia Bugaboo si adatta sia alla vita cittadina sia ai terreni irregolari, offrendo versatilità e robustezza ai massimi livelli. Una delle caratteristiche distintive di Baffalo è la sua personalizzazione. Attraverso la scelta del colore del tessuto della base, ed è il set rivestimento personalizzato in vari colori e configurabile a tuo piacimento. Bugaboo Baffalo è disponibile come duo, carrozzina e passeggino ed è possibile però montare degli ovetti sul telaio di Bugaboo Baffalo attraverso gli specifici adattatori originali. Il telaio ha quattro grandi ruote in schiomene espanso per adattarsi a tutti i tipi di terreno e lo puoi utilizzare su due ruote per le tue passeggiate sulla sabbia e sulla veve. Il portaggetti è capiente e di facile accesso e ha una portata fino a 16 kg. Il maniglione è regolabile in altezza, dotato di laccetto di sicurezza e di ganci per l'appoggio della borsa. La carrozzina è ampia, con il materassino traspirante e fondo in legno. Il passeggino è reversibile fronte genitori e fronte mondo ed è reclinabile in più posizioni con una sola mano. L'ampia cappottina è stendibile, dà la massima protezione al tuo bambino contro gli agenti atmosferici. Baffalo si usa di più degli altri passeggini. La sua seduta ha una portata di ben 23 kg, che equivale al peso di un bambino di circa 5 anni. Il telaio di Baffalo può essere richiuso in un unico pezzo con la seduta passeggino per ottimizzare gli spazi. Baffalo, infine, può essere completato con una serie di accessori originali a scelta per assolvere tutte le tue esigenze.